Si terrà a Napoli dal 3 al 5 ottobre la quinta edizione della Biennale della Prossimità, tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli in diversi luoghi del Centro Storico Cittadino. Presentata questa mattina in Sala Giunta, l'iniziativa si intitola quest'anno Rigenerare luoghi e relazioni. È un percorso prima ancora che un evento, stiamo lavorando da un anno con 38 realtà napoletane molto diverse tra di loro, da grandi organizzazioni strutturate a realtà giovanili e questa è una cosa bellissima e abbiamo deciso che lo specifico di questa quinta edizione sia la rigenerazione delle relazioni e dei luoghi. Sono tre giorni molto creativi perché ci saranno momenti di dialogo, noi li abbiamo definiti così perché ci saranno comunque confronti di parola su dei temi specifici che il Comitato Nazionale ha condiviso insieme ai promotori locali ma ci saranno anche momenti artistici, culturali, che riguarderanno comunque la tradizione di Napoli anche rispetto al cibo, alla cultura. La tre giorni partenopea sarà l'evento conclusivo di un percorso condiviso che dura da oltre un anno e coinvolge circa 40 organizzazioni in momenti di confronto e riflessione per promuovere buone prassi e creare reti integrate al servizio delle comunità territoriali e dei cittadini più fragili. Ripartire dalla riqualificazione dei luoghi per creare nuove modalità di relazione proprio nell'ottica della prossimità e nello stare insieme nella quotidianità anche per rispondere ai bisogni e al benessere della comunità in cui si vive.